Grazie Presidente, per essere sempre nell'ottica di un'efficienza e visto che ci sono anche altri lavori pendenti a vale del Consiglio, per esprimere la soddisfazione nonché una forte emozione nel portare a termine questo percorso, ripeto, ancora una volta partecipato nella maniera più ampia del senso e quindi rinnovo ringraziamenti per l'ennesima volta a tutti coloro che hanno contribuito con passione alla stesura di questo regolamento che è un regolamento effettivamente complesso ma che sicuramente segna un nuovo inizio per questo servizio sul quale assolutamente non intendiamo fermarci. Pertanto ringrazio questa maggioranza e tutti gli altri consiglieri che sono rimasti fino al termine dei lavori per l'approvazione del regolamento. Grazie. Grazie.